E' la seconda volta che ci troviamo a mettere le mani in anteprima su Total War Warhammer 3, dopo aver provato le battaglie di sopravvivenza, una delle principali novità di questo terzo capitolo della serie e quindi toccato alla campagna vera e propria. Prima di continuare, se ancora non lo avete fatto, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale YouTube per non perdervi tutte le prossime novità, ricordandovi di venirci a trovare mensilmente in edicola e quotidianamente sul nostro sito thegamesmachine.it. Questa volta abbiamo potuto provare un totale di 100 turni della campagna, 50 dalla parte del grande Katai e altrettanti controllando una fazione finora avvolta nel mistero, il caos indiviso. Ciò che abbiamo potuto vedere, meglio precisarlo sin da subito, ci ha fatto venire la colina per quello che sarà il gioco completo. Lo strategico di Creative Assembly infatti ha tutte le carte in regola per rivelarsi uno dei migliori esponenti della saga di Total War ed è tutto merito dei poteri perniciosi. Che lo studio britannico abbia stretto un patto con le divinità caotiche, questo ovviamente non possiamo saperlo, ma sappiamo che alla base della narrativa di Warhammer 3 c'è proprio un accordo tra un condottiero chislevita e i quattro dei del caos. Potere in cambio di una vita, non una qualsiasi però, la vita di un altro dio. È così che il fueroe chislevita si avventura nella fredda desolazione settentrionale per uccidere Ursum, il grande orso idolatrato nelle terre del nord. Dopo aver esploso un proiettile arcano che colpisce Ursum dritto al cuore, il nostro condottiero riceve il favore dei poteri perniciosi, elevandosi a principe demone del caos indiviso. Ed è proprio così che nasce l'ottava fazione dello strategico pubblicato da Sega. Eppure Ursum è ancora in vita, rapito e imprigionato nel reame demoniaco di Balakor. Lo scopo della campagna sarà quindi quello di raggiungere il regno del padrone oscuro per liberare Ursum, nel caso delle fazioni umane, o per assorbirne il potere, nel caso di quelle demoniache e degli ogri. La versione di prova messa a disposizione da Creative Assembly ci ha permesso di avere un primo faccia a faccia con Miao Ying, il dragone della tempesta, una dei due leader del Katai. Come si sarà comportato lo studio di Horschman alle prese con una fazione del tutto inedita? La risposta non può che essere questa. Piuttosto bene, prendendo ispirazione dalla civiltà cinese, il grande Katai offre una discreta varietà di unità militari specializzate principalmente su uno stile di gioco difensivo. Truppe dotate di armi da fuoco di vario tipo, dagli archi alle balestre, passando per archibugi e macchine da guerra, vengono affiancate da lanceri e fanteria pesante in grado di accusare le cariche. A questi si vanno poi ad aggiungere le abilità arcane dei maghi del Katai, capaci di colpire con precisione chirurgica le unità nemiche più problematiche e di supportare quelle alleate con incantesimi benefici. Sia sul campo di battaglia che nella mappa della campagna, poi, il Katai professa la disciplina dell'armonia. Ogni unità, edificio e tecnologia della ricerca è allineato a uno tra i due aspetti dello yin e yang. Bilanciare queste due facce della stessa medaglia rappresenta la chiave per la vittoria. Durante gli scontri, infatti, posizionare le unità yin vicino a quelle yang dà loro bonus reciproci, potenziandone le statistiche e la letalità sul campo. Nel corso della campagna, invece, bilanciare correttamente il numero di elementi della filosofia ed ispirazione taoista è in grado di garantire enormi benefici a tutto l'impero. Attenzione, però, se la bilancia pende troppo da una parte o dall'altra, l'intera fazione subirà malus consistenti in base alla differenza tra le due variabili. Tutto sommato, da questi prima 50 turni, il grande Katai è parso una fazione un filo più complessa del solito. Molto diversa, invece, l'esperienza con il caos indiviso. In questo caso, il punto di partenza è Norska, circondati da tribù amiche, più o meno, dunque in una posizione tutto sommato tranquilla che permette di prendere dimestichezza con le nuove meccaniche di gioco con molta più calma. La peculiarità di questa fazione risiede principalmente nella possibilità di reclutare unità allineate a tutti e quattro gli dei del caos, a patto di aver ottenuto abbastanza gloria verso questa o quella divinità per sbloccare le relative truppe. Non basta costruire gli appositi edifici negli insediamenti, dunque, bensì bisogna far sì che le proprie azioni rispecchino il volere degli dei. Come? In primo luogo, le città e gli avamposti, una volta conquistati, devono essere dedicati alle quattro divinità del caos. Così facendo, si ha accesso alle linee produttive legate a quella determinata divinità e si ottengono i punti gloria correlati. Un altro modo per farsi amici i poteri perniciosi è offrire loro il sangue versato in battaglia e tutti i prigionieri catturati. In questo caso, si può anche scegliere di non effettuare un sacrificio a una divinità specifica, presentando un'offerta direttamente al caos indiviso, rimanendo così puri e retti nel servire quell'ideale caotico che punta a riunire sotto un unico standardo tutti i devoti a questo o quel dio. Infine, attraverso i loro agenti, i quattro possono affidarci delle missioni le quali, una volta portate a termine, fanno crescere la considerazione della divinità di turno nei nostri confronti. L'accesso alle battute iniziali della campagna di Total War, Warhammer 3 ci ha poi permesso di dare uno sguardo alle altre meccaniche introdotte da Creative Assembly. In primo luogo, lo studio britannico promette di offrire un comparto diplomatico molto più profondo e sfaccettato. Difficile fare una valutazione dopo una manciata di turni appena, ma effettivamente la schermata della diplomazia presenta una più ampia varietà di opzioni e disposizione del giocatore, tra cui la possibilità di stabilire avamposti nei territori controllati dagli alleati. Un altro tratto distintivo della campagna di questo terzo capitolo è la presenza delle fratture nel regno materiale che funzionano come dei veri e propri portali verso la dimensione del caos. A intervalli più o meno regolari, infatti, il rugito di Ursun fa sì che si aprano delle spaccature dalle quali fuoriescono eserciti di demoni. Tuttavia, i portali non sono a senso unico. Un lord può attraversarli con il suo esercito per raggiungere il regno dei poteri perniciosi, conquistarne la roccaforte e ottenere il cuore del relativo demone maggiore che vi fa la guardia. Una volta ottenuto il cuore di tutti e quattro i demoni, sarà possibile sferrare l'attacco finale alla fortezza di Belacor e, in caso di vittoria, concludere con successo la campagna. A parole, sembra facile, ma prima di raggiungere ogni singola roccaforte bisogna superare una serie di prove di difficoltà crescente, nonché evitare di essere tentati dalle offerte degli stessi dèi del caos. Peccato che durante la prova siamo riusciti a effettuare una sola incursione prima che la demo si interrompesse bruscamente allo scadere dei turni prestabiliti. Abbiamo scelto di invadere il regno di Slanesh, al cui interno siamo stati accolti da un esercito di demonette e altre truppe fedeli al dio del piacere. Dopo essersi disfatti dei nemici, non senza qualche difficoltà, abbiamo deciso di accettare la proposta di Slanesh che ci ha offerto denaro e oggetti incantati se avessimo abbandonato il suo reame per tornare immediatamente sul piano mortale, sigillando la frattura alle nostre spalle in modo tale che non sarebbe stato possibile tornare nel regno dei demoni fino al successivo rugido di Ursum. Avventurarsi nei domini caotici è quindi una questione di rischio e ricompense. Fa in ogni caso piacere che Creative Assembly sia riuscita a variare ancora una volta la ricetta classica di Total War, ma per capire quanto sia profonda la formula ludica ideata dal team di sviluppatori, bisognerà aspettare qualche altra settimana. Nel frattempo non vediamo l'ora di tornare nel mondo di Warhammer 3.